ben ritrovati nella cucina di michela e i suoi sapori di procida di un tempo oggi vi presento la parmigiana tipica procidana fritta ben due volte io qui già ho preparato delle melanzane tagliate a fettine adesso le andiamo a friggere una prima volta dopodiché le impaniamo e poi le passiamo in forno con del sugo di salsa semplice parmigiano e basilico andiamo a friggerle melanzane fritte la prima volta prima nella farina poi le andiamo a mettere nelle uova e poi friggiamo le nostre melanzane sono state quindi fritte per la seconda volta adesso andiamo a prendere una piccola teglietta uniamo un pochettino di sugo di salsa di pomodoro fresco e facciamo un primo strato di melanzane aggiungiamo sempre un pochettino di sugo un pochettino di formaggio un po di basilico e andiamo a fare un altro strato facciamo così fino all'esaurimento delle melanzane terminiamo con un po' di pepe e adesso andiamo ad infornare la nostra parmigiana di melanzane per 15-20 minuti a 170 gradi in forno ventilato prediscaldato ed ecco il risultato finale della nostra parmigiana alla procidana fritta due volte e poi passata un pochettino in forno eccola grazie per aver visto il mio video ci vediamo alla prossima ricetta